Rilassare e rigenerare corpo e mente nuove opportunità terapeutiche in grado di garantire benessere e salute con i prodotti naturali imparando a curarci in modo consapevole di questo ed altro parleremo oggi affrontando un viaggio nel vivere sano Siamo con Maria Assunta Marrocco, erboristeria Salus Allora, intraprendiamo questo viaggio tra i rimedi naturali e come ogni anno si avvicina l'estate e quindi ci sono tante novità e prodotti speciali Cosa abbiamo in primo piano? Allora, possiamo proporre i fanghi di alga guam che sono dei fanghi che vengono, i fanghi di alga guam sono conosciuti da moltissime persone vengono utilizzate oramai da tantissimi anni e sono composti da alghe che vengono raccolte in questo periodo ed essiccate al sole Queste alghe contengono al loro interno dei componenti rimineralizzanti per cui agiscono sia sulla cellulite che sulla tiposità della pelle I fanghi vengono utilizzati come trattamento ad urto e si usano come impacco da utilizzare sulla pelle, sulle gambe vengono messe sulla pelle, a volte con una pellicola trasparente e risciacquati dopo 40 minuti Il trattamento ad urto si può fare tutti i giorni, nella prima settimana poi nella seconda settimana giorni alterni fino ad arrivare a un mantenimento di un giorno a settimana In alternativa al fango classico da risciacquare c'è il fango crema che è questo, il fango crema si utilizza come una crema e non si risciacqua per cui questo in modo particolare ha un effetto drenante e agisce su gambe e glutei altrimenti poi c'è il fango crema a effetto freddo pancia e girovita, insomma mirato alla propria esigenza ogni esigenza ha un tipo di crema specifica Il punto di forza di questi fanghi sono proprio le alghe le alghe marine che contengono iodio e agiscono proprio penetrano all'interno della pelle e hanno questa funzione di proprio combattere la cellulite per cui agiscono bene, sono utilizzate oramai da tanti anni e le possiamo proporre bene perché vediamo gli effetti Non ci sono controindicazioni? Come controindicazione c'è il fatto che appunto contenendo iodio non possono essere utilizzate da chi soffre di tiroide per cui per questa tipologia di persone abbiamo altre alternative da poter proporre Quindi comunque la consulenza è fondamentale prima dell'utilizzo di questi prodotti? Certo, la cliente deve dirci quali sono le proprie problematiche e noi in base a quello gli consigliamo il prodotto più adatto Ecco, vogliamo vedere qualche prodotto un po' più nello specifico? C'è il fango, sembra il fango da applicare che ha un effetto drenante gambe e glutei oppure abbiamo anche le varie creme c'è questa che è una crema smagliatura e seno corpo da utilizzare dopo il fango, dopo il trattamento fatto con il fango oppure l'anticellulite oppure abbiamo anche un prodotto specifico per le donne in menopausa per cui hanno un metabolismo un po' più lento questa è una crema smagliatura specifico che agisce in modo più localizzato per le persone che hanno questo tipo di esigenza Sempre per la cura del corpo sempre prodotti destinati alle donne cosa abbiamo qua? Allora, abbiamo una linea dimagrante di alta natura che è un'azienda che stiamo trattando benissimo e che siamo fieri di proporre perché ci troviamo molto bene con questa azienda possiamo proporre i vari integratori dimagranti però da fare una premessa prima di tutto quando si usano i dimagranti bisogna avere degli accorgimenti personali per cui avere un'alimentazione controllata con i tre passi principali e due spuntini bere molta acqua fare attività fisica per cui questi integratori agiscono meglio sulle persone possiamo proporre i vari drenanti abbiamo questi drenanti che oltre a eliminare liquidi aiutano anche il microcircolo in vari sapori mirtillo, pesca e sambuco si diluisce uno o due misturini in un litro di acqua e si beve durante la giornata e aiutano molto l'eliminazione di liquidi poi possiamo proporre i vari integratori in base alle proprie esigenze per cui avremo dei prodotti a base di caffè verde, acai che agiscono sul metabolismo oppure avremo dei prodotti a base di griffonia che agiscono sulla fame nervosa per cui abbiamo una varia gamma di prodotti da proporre in base alle esigenze personali poi abbiamo il focus linea che aiuta a drenare, a sgonfiare e dà un senso di sazietà e si diluisce in acqua oltre ad avere le varie disane che possiamo preparare al momento in base ai propri gusti Molte persone oramai sono informate sulle varie piante da utilizzare oppure possono chiedere a noi noi in base alle esigenze consigliamo la tisana più adatta ad ogni tipo di persona le tisane le prepariamo al momento per cui le decidiamo insieme decidiamo insieme quale tipo di tisana è più adatta Ci sono appunto varie tisane più adatte rispetto alle esigenze personali facciamo qualche esempio Ad esempio possiamo consigliare l'equisedo che è una pianta rimineralizzante oppure il tè verde che è antiossidante e drenante il finocchio che aiuta a sgonfiare le tisane sono oppure abbiamo altre tisane lassative che agiscono sull'intestino e poi possiamo anche preparare un misto di piante diverse che hanno diverse funzioni ma che messe tutte insieme aiutano l'organismo Noi prepariamo delle tisane abbiamo vari tipi di erbe di erbe officinali abbiamo il carciofo che è una pianta depurativa abbiamo la verbena che è rilassante come anche il biancospino il tiglio la melissa possiamo preparare varie tisane da utilizzare tutti i giorni in base alle proprie esigenze oppure chi proprio ha voglia di di un qualcosa di naturale da bere la sera adesso in questo periodo possiamo preparare tisane drenanti da bere durante la giornata sempre in fatto di tisane cosa abbiamo qua? allora queste sono delle tisane in bustine quindi un po' più comode da utilizzare c'è la tisana drenante l'actitren che attiva il metabolismo l'ananas cell molto buona che agisce va bene sulla cellulite quindi sulla circolazione il finocarbo che va bene per il gonfiore e l'aria che si forma nella pancia per cui per quanto riguarda tisane già pronte ne abbiamo varie oltre quelle ce ne sono anche altre qui abbiamo invece un'altra linea sempre in previsione per l'estate in arrivo sì non solo destinata alle donne anche agli uomini anche gli uomini ultimamente curano la propria pelle per cui scelgono una protezione per preservare il proprio corpo abbiamo già la linea dei solari dell'erbolario dove abbiamo gli spray solare con protezione abbastanza alta una protezione 30 chi non vuole assolutamente protezione abbiamo lunguendo super abbronzante questo soprattutto per i giovani che utilizzano questo super abbronzante al mallo di noce che è senza filtri però c'è l'aloe per cui si evitano anche le scoltature le varie le varie protezioni partiamo da una 50 da una 30 una 15 quindi in base alle proprie ad ogni esigenza molto carina è la crema illuminante che è un dopo sole che messo sulla pelle ha questo effetto ha delle pagliuzze dorate per cui rende la pelle molto dorata è molto carina ad estate è molto bella poi abbiamo anche la linea bimbi con una protezione 30 e il dopo sole sempre bambini poi abbiamo per la protezione dei capelli uno spray solare a base di olio di cocco lo shampoo solare a base di olio di lino e mandorla perché in estate comunque i capelli vengono i capelli esposti al sole alla salsetine diventano più secchi per cui c'è questo shampoo mirato e uno spray solare che ammorbidisce i capelli per cui si evita il capello troppo crespo poi i vari dopo sole dopo sole fluido sole ombra molto buono che è viso corpo un dopo sole rinfrescante e un altro al polline quindi abbiamo varie varie tipologie di di dopo sole differenza c'è tra questi prodotti che si basano sui rimedi naturali le piante officinali e quelli che siamo più abituati a vedere sulle spiagge questi prodotti siamo sicuri che mettiamo sul nostro corpo prodotti che non danno che non ci danno problemi che non ci possono creare problemi anche successivamente soprattutto l'erbolario adesso sta con il tempo fa delle formulazioni senza nickel cromo tutte sostanze che purtroppo che danno allergia a molte persone purtroppo danno allergia a breve arriverà anche un autoabbronzante che è una crema bianca che messa tutti i giorni quotidianamente favorisce la melatonina per cui rende l'abbronzatura di un colore bronzato è un autoabbronzante non è scuro è bianco ripeto e aumenta la melatonina prossimamente avremo anche questa quindi benessere sì ma prima di tutto anche attenzione alla salute certo anche attenzione alla salute infatti abbiamo anche una linea make up senza nickel vogliamo vederla appunto è questa qui una linea make up senza nickel senza cromo senza arsenico quindi senza i metalli pesanti che possono creare problemi alle persone abbiamo i lip gloss rossetti e alcuni tipi di tinte correttore matita occhi e mascara i colori sono neutri quindi possono essere adatti a tutti bene qui invece cosa abbiamo allora qui abbiamo l'erbolario che è un'azienda che noi siamo fieri di questo siamo stati primi a credere in questa azienda oramai sono 5 anni che trattiamo prodotti dell'erbolario e questa è tutta una linea molto bella profumata dove le persone possono vengono da noi per chiederci prodotti per la pelle creme profumate bagnoschiumi saponi e noi siamo molto orgogliosi di poter accogliere i clienti che vengono da noi anche si fidano di noi anche per per realizzare delle confezioni per dei regali noi in questo ci teniamo molto a a rendere la confezione particolare per esempio possiamo fare le varie confezioni con crema corpo bagnoschiuma sapone abbiamo delle scatole con dei fiocchi poi facciamo scegliere ai clienti come prepararla questa confezione possiamo scegliere i colori e anzi ringraziamo i clienti le clienti che vengono da noi si fidano di noi per per fare i loro regali i loro acquisti e di questo siamo contenti noi ci teniamo moltissimo a a far sì che il cliente sia contento delle nostre confezioni e soprattutto ci teniamo che la persona che riceve il regalo sia contenta di aver ricevuto un bel pensiero e per cui curiamo molto i particolari nelle confezioni e niente fa piacere a noi rendere il cliente felice grazie a tutti Abbiamo anche una cura del viso molto importante. L'erbolario ha diverse referenze, possiamo avere la linea all'olio di argan, possiamo avere l'acido ianuronico, l'aloe, ad esempio questa è una crema idratante all'aloe, molto buona, idratante per tutti i tipi di pelle. Abbiamo l'acido ianuronico per le pelli mature, in questo mese abbiamo in offerta anche l'acido ianuronico in capsule per cui avremo un'integrazione interna. Oltre che utilizzare delle creme possiamo utilizzare anche degli integratori. Abbiamo le varie creme mani, c'è questa buonissima all'olio di oliva come la crema mani all'argan oppure la crema piedi. Tutti prodotti che ci aiutano quotidianamente nella cura della bellezza personale. Ci sono anche creme viso con diverse essenze? Sì, abbiamo creme viso, latte detergente perché per la cura del viso è molto importante anche la pulizia del viso per cui utilizzare latte detergente ogni giorno oppure la sera avere l'accortezza di struccarsi perché le creme agiscono se utilizzate in modo appropriato. Per cui utilizzare anche degli oli per il viso. Vogliamo vederne alcune? Sì, abbiamo questa per esempio che è una crema viso all'olio di argan oppure possiamo utilizzare una mousse detergente per struccarci, una mousse da utilizzare al posto del sapone e deterge il viso come anche il fluido detergente per il viso. Una volta che il viso è pulito possiamo applicare la crema. Poi abbiamo anche la BB cream che è una crema leggermente colorata che funge sia da crema idratante che da leggera crema colorata. Adesso arriverà anche la CC cream che è una crema che ha un'applicazione diversa, è un po' più forte della BB cream per cui può essere un'alternativa anche al fondotinta oltre ad essere una crema idratante e quella è in arrivo la CC cream. Poi abbiamo le varie maschere per il viso, maschera purificante, maschera per pelli sensibili, quindi è molto ampia la linea viso. Poi le clienti quando vengono da noi possiamo dare le varie spiegazioni, poi noi diamo molti campioncini da far provare perché ogni cliente ha una pelle diversa, un'esigenza diversa. Per cui noi siamo abituati a dare dei campioncini prova, per cui la cliente prova prima il prodotto e poi quando l'acquista acquista una crema specifica. Quindi questa è una possibilità che noi diamo e siamo contenti perché siamo contenti quando la cliente o il cliente acquista da noi in modo consapevole, in modo sicuro. Oltre la linea corpo, quindi bagno schiuma, crema corpo, polvere profumata, profumo, abbiamo anche fragranze per ambienti dove abbiamo la bottiglietta da metterci i bastoncini profumati e questi oltre a profumare arredono anche la casa come anche le candele profumate. I profumi per l'ambiente si ispirano ai profumi della natura, cosa abbiamo? Allora abbiamo hortensia, abbiamo il papavero, abbiamo l'ambra liquida, le profumazioni sono veramente varie, tutte ispirate alla natura, tutte fiorite, per cui danno allegria anche all'interno della casa. Favoriscono anche il benessere? Certo, certo, perché avere una casa profumata comunque agisce anche sull'umore sicuramente. Poi voglio ricordare che da quest'anno ogni mese avremo varie iniziative, questo mese per esempio in alcune attività ci saranno dei buoni omaggio per cui i clienti possono ricevere dei buoni sconto da utilizzare nella nostra attività. Come noi daremo dei buoni sconto da utilizzare in altre attività di nostra fiducia, per cui regaliamo delle gigantografie, dei poster oppure dei massaggi drenanti, per cui le clienti che si affidano a noi avranno anche questi sconti e questi regali da parte nostra. Questi prodotti che abbiamo qua sono dedicati a quale trattamento o trattamenti? Trattamento viso, sono felice di presentare Lama Vidal che è un'azienda del Mantovano che stiamo trattando molto bene, è un'azienda che lavora senza coloranti, senza parabeni, quindi completamente naturali. Abbiamo una linea viso e una linea corpo, anche una linea capelli abbiamo. Sulla Lama Vidal possiamo proporre bene l'anti-age illuminante che contiene anche filtri UVA, UVB, creme idratanti, oltre alla linea corpo, quindi bagno schiuma, profumo. I profumi sono veramente molto buoni, a differenza dell'erbolario sono profumazioni un po' più, meno fiorite diciamo, ma molto molto buone. Poi su questa linea abbiamo l'esclusiva, per cui siamo contenti di poterli avere. Poi voglio dire alle clienti che periodicamente avremo una dottoressa, la dottoressa Boccolato, che è una visaggista cosmetologa, che verrà presso di noi. Avremo degli incontri con lei, per cui le clienti in modo del tutto gratuito possono chiedere informazioni, possono avere informazioni specifiche sia sui prodotti e sia su ogni tipo di problematica particolare che hanno. Per questo le clienti possono regarsi nel nostro punto vendita, in modo che noi potremo dare tutte le informazioni sugli appuntamenti che avremo con questa dottoressa. Un incontro già l'abbiamo fatto, ma sicuramente lo ripeteremo perché è andato bene e quindi siamo contenti anche di poter dare questa opportunità alle clienti che si rivolgono a noi. Quindi provare anche sulla propria pelle l'efficacia di questi prodotti. Certo, faremo delle giornate dedicate alla pelle, delle giornate in cui le persone si concedono un'ora per venire da noi e la nostra dottoressa darà tutte le varie indicazioni su come usarli, utilizzarli i prodotti, perché a volte i prodotti vengono utilizzati in modo sbagliato e quindi daremo delle informazioni, daremo tutti i vari appuntamenti che sono in agenda per quest'anno. Oltre la linea visa abbiamo anche la linea capelli Amavital, abbiamo la linea capelli specifica per ogni esigenza, per l'anticrespo, l'antiforfora. In particolare abbiamo dei prodotti mirati, tipo questa che è una crema senza risciacquo per chi ha i capelli ricci e duri, diciamo. Questa è una crema che sostituisce la mousse, per cui utilizzandola dopo lo shampoo senza risciacquo ammorbidisce molto il capello. Oppure abbiamo questa che è una crema sempre senza risciacquo, lisciante, per cui chi vuole il capello più liscio, più morbido, può utilizzare questa in alternativa alla piastra magari. Quindi si basano tutti su estratti biologici? Certo, certo, tutti su estratti biologici, abbiamo le varie maschere, anche per chi usa tinte, abbiamo una maschera produttiva del colore, per cui quando si usa la tinta il capello tende a seccarsi. Abbiamo uno shampoo specifico con una maschera da utilizzare per il trattamento dei nostri capelli, perché come ci prendiamo cura del corpo, del viso, anche i capelli hanno bisogno di cura e di attenzione. Quindi sono piante utili a rispondere a qualsiasi esigenza? Sì, sì, semi di lino ad esempio, oppure germi di grano, ci sono tutte piante che contengono al loro interno dei nutrimenti che ci aiutano sicuramente, aiutano la bellezza del capello. Abbiamo anche le tinte naturali che sono senza ammoniaca, abbiamo le varie colorazioni, queste tinte non provocano allergia e coprono benissimo i capelli bianchi. In alternativa a questo abbiamo un gel colorato che può essere usato anche in gravidanza, adesso li andremo a vedere. Abbiamo questi che sono dei gel, ho preso questo che è castano chiaro, è un gel naturale che può essere utilizzato anche in gravidanza, non dà allergie, non dà problemi e può essere un'alternativa alla tinta. Come anche abbiamo gli ennè di vari colori, i più famosi sono quelli rossi, il rosso diziano e il rosso mogano o il castano o il nero. L'ennè è una polvere da sciogliere in acqua, una polvere colorata che si scioglie in acqua e si applica sui capelli, si tiene in posa un'oretta, un'ora e mezza e ha la proprietà di tingere i capelli in modo naturale. Abbiamo una vasta scelta di oli vegetali di alta natura, che è un'azienda che stiamo trattando molto bene, abbiamo olio di germi di grano, olio di arnica, olio di ricino che ultimamente viene utilizzato molto per rinforzare le unghie, le ciglia, quindi molto buono. Abbiamo l'olio di cocco, olio di calendula, jojoba, iperico, quindi abbiamo una vasta gamma di oli, abbiamo oli da massaggio, i frutti di bosco e carité molto buoni, abbiamo degli oli essenziali per fare delle preparazioni. Poi se vengono da noi le nostre clienti, noi possiamo consigliarle alcune preparazioni per realizzare anche delle creme, diamo delle informazioni in più. Abbiamo dei sali da bagno all'alo e al burro di carité, oppure questa che è una palla fritz da sciogliere direttamente nella vasca da bagno, quindi per la cura del corpo. Molto importante è l'allume di potassio, abbiamo che è un deodorante e antiodorante che non dà odore, però è molto utile per chi ha una sudorazione molto forte, per cui neutralizza l'acidità del sudore. Ed è proprio la pietra, la pietra di allume, è questa qui. Poi abbiamo olio di mandorle dolci, che è un olio molto utilizzato, soprattutto in gravidanza, comunque per chi ha la pelle molto secca. Abbiamo il sapone di marsiglia, detergente liquido oppure proprio il sapone e vari tipi di saponi. Olio essenziali e anche creme. Abbiamo varie pomade, questa all'aloe è molto buona per le dermatiti, per le pelli molto secche, per le scottature. Poi abbiamo l'artiglio del diavolo, che è una pomada che agisce sui dolori, la calendula che è idratante, va bene per gli arrostamenti. Per quanto riguarda i dolori abbiamo la linea nodol, che è in crema o in cerotti o in capsule, che agisce sulle articolazioni. Contiene al loro interno la glucosamina, che è una sostanza che agisce proprio sulle articolazioni, come il plantadol, che agisce anche sul mal di testa, sui disturbi della cervicale. Abbiamo il depurativo Reum, che è un depurativo da utilizzare soprattutto la mattina a digiuno ed è un depurativo generale, soprattutto del fegato. Contiene tarassaco, carciofo, cardomariano, che sono tutte piante depurative dell'organismo. Può essere utilizzato da chiunque tutti i giorni per avere un'azione depurativa. Poi abbiamo la pappa reale, che è un ricostituente. La pappa reale ce l'abbiamo sia in flaconcini che in bustine liofilizzate, per cui possono essere utilizzate anche per i bambini. Si può mischiare con il latte o nello yogurt. Un ricostituente molto valido, contiene vitamine. Poi i vari oli essenziali, lavanda, eucalipto, bergamotto, rosmarino. Poi per qualunque olio particolare che il cliente cerca, noi lo possiamo ordinare tranquillamente. Oltre a questi, possiamo ordinarli anche altri. Abbiamo sempre in preparazione dell'estate, questo integratore, il carosole, che è a base di beta carotene, per cui utilizzato in questo periodo facilita l'abbronzatura e si evitano le scottature, contenendo beta carotene, ha questa proprietà, per cui è un integratore molto valido da prendere in questo periodo. Bene, qua cosa abbiamo? Allora, abbiamo le caramelle, caramelle senza zucchero, a vari gusti. C'è propoli, menda, anice, eucalipto, ginseng, liquirizia. Queste caramelle vengono da Torino. La ditta è la Leone, è una ditta che noi trattiamo oramai, sono 30 anni che la trattiamo. Sono caramelle senza zucchero, ripeto, invece dello zucchero c'è il maltidolo, che è un sostituto dello zucchero. Contiene la metà delle calorie presenti nelle caramelle normali e possono essere consumate anche dai ciliaci, per cui su questo siamo molto tranquilli. Abbiamo anche liquirizie, abbiamo liquirizie morbide oppure liquirizia pura o all'anice, che è dura, senza zucchero. Quali proprietà hanno queste caramelle? Allora, le caramelle sono di vari gusti, in particolare abbiamo la propoli, l'eucalipto, propoli e agrumi che agiscono sulla gola. Sono caramelle balsamiche per cui utilizzate tutti i giorni, aiutano sicuramente tutto l'apparato respiratorio. Abbiamo l'anice, la caramella all'anice che è digestiva, come la menta, quindi abbiamo varie qualità di caramelle. Qui abbiamo invece liquirizie? Sì, abbiamo liquirizie morbide, liquirizia pura e liquirizia all'anice, queste sono senza zucchero, oppure abbiamo i chicchi di caffè ricoperti da cioccolato al latte, molto gustose e molto buone. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!